Ciao a tutti ragazzi, qui siamo i The Final Games, oggi vi mostrerò un nuovo video su Battlefield 1 come potete vedere e oggi siamo sul portaordini, vi mostrerò la prima missione, andiamo ragazzi, Dardanelli, penisola di Caligoli, primavera 1915, l'impero britannico intende aprire un nuovo fronte bellico, vengono preparati i piani per un'invasione, mi chiamo arrivare la terra l'automobile, le forze navi, va bene, leggete voi che io sono lento a leggere, ragazzi questo è una cosa, è un gioco fantastico, quindi ve lo porto tutto quanto, 3 giorni non ci sarò perché vado a sciare, metterò un vlog sulla neve se ce la faccio, giorno 2, e non ci sarò perché vabbè? Oh Dio Ehi, siete voi, Frederick Bishop? No, mi spiace, è morto Ma questa non è la vostra foto Così sembra Jack Foster Sono il vostro nuovo allievo No, non credo Levami questo moccioso giorno Certo che no Ha fatto tutta questa strada solo per vederle Frederick Bishop, l'orgoglio dell'Australia Ha persino mentito sull'età per poter essere arruolato Conosci il morso? Sì Ok, seguimi Che disastro La prima ondata non ha avuto scampo Guarda che difese Come faremo a prendere la spiaggia? Questa volta abbiamo le corazzate Tappati le orecchie, sarà piuttosto rumoroso Invia le coordinate Mamma mia ragazzi E' fantastico E' fantastico E' ora di muoversi Ehi, ehi, dove credi di andare? Insieme a voi Prepara il fucile Sì, va bene, stare qui Andrai al comando delle retroguardie Dopo che sparerò il bengala Sì, signore Sì, signore E non finire niente mai Cazzo Devo arrivare in cima alla spiaggia Le barche a remi non hanno scampo Cazzo Forza gente, fino in cima Sì, signore Sì, signore Iniziamo Sì, signore Sì, signore Sì, signore Sì, signore dai ciappu zio ti faccio fuori ah la 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 oh merda oh oh dobbiamo avanzare verso quel punto d'osservazione non ci sono allo hai cussi dai ciappu dai ciappu dai ciappu dai cio dai ciappu dai ciappu il colpito non ce l'ho visto oh qua oh 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 no 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 Sì, sì, sì. è ora di sparare quel bengala di fare vieni con me guarda avanti guarda ragazzo sei finito all'inferno per davvero io volevo tu volevi solo una tua statua nella piazza del tuo paese io volevo solo no io volevo dai su ragazzo alzati avanti bravo io morirò no non morirei sei australiano impossibile da uccidere sì forse sì a meno che tu non sia neozelandese no allora prima di cominciare sì avanti alzati guarda il braccio qui l'altro fuori il calcio nella spalla guancia contro il calcio no così puntalo dove vuoi sparare bene piede un po' in fuori stavo cominciando a pensare di aver perso i miei australiani posso fare qualcosa non tu il ragazzo ci serve un messaggero per il fronte davvero no sì no non può buttare il ragazzola in mezzo così si farà ammazzare no 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 io posso farcela no lo farò io va bene tu starai con me e tu tu correrai bello a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video ho fatto vedere un pezzo del prossimo video per anticiparvi un po' ci vediamo al prossimo video bello a tutti ragazzi ciao 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 ciao